Sì La prova della colla è la cosa durante il riscaldamento, la fanno, per cui non serve La prova della colla è la cosa durante il riscaldamento, la fanno, per cui non serve Servirà tanta garra questa sera accanto col top Sì, servireà un po' di tutto perché... Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.